PEGI 16 Le creature avevano invaso la città, trucidando uomini, donne e bambini. Alcuni furono uccisi senza pietà. Altri vennero catturati e portati via per chissà quale motivo. Alla radio dicevano che ci avrebbero evacuato sulla terraferma. Consigliavano di raggiungere il GVB con l'aiuto di uomini e donne coraggiosi, i Minutri. Ma io non andrò da nessuna parte. Natalie, Rachel, vengo a salvare. Untertitelung des ZDF, 2020 Malóанием Grazie a tutti.